Linea ferroviaria potenziata, maggiori servizi, riqualificazione delle aree esterne ed un nuovo volto ad uno degli ingressi principali della città. E' questo il risultato di un incontro che il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha avuto con i vertici di rete ferroviaria italiana. L'intervento prevede la realizzazione di marciapiedi, passerelle ed aree di sicurezza. I lavori saranno realizzati in due anni. L'inizio dell'intervento è programmato già per la prossima primavera. Grazie.